Oggi per una nuova lezione di impariamo divertendoci siamo qui con Sydney e vi mostreremo come si fa a insegnare al cane a passare sotto le nostre gambe tenendo dei premietti in entrambe le mani metteremo il cane in posizione frontale a noi brava seduta allarghiamo bene le gambe e metteremo la nostra mano iniziale dietro la nostra gamba e fermo il passare il cane sotto quando fa il giro completo la premiamo da questa posizione metteremo la sinistra quando fa il giro completo la premiamo quando il passaggio diventa un pochino più fluido cominciamo a inserire il comando io ho utilizzato il comando sotto sotto bravissima sotto bravissima una volta che cane ha capito cerchiamo di chiedergli più di un passaggio sotto 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 quando il cane ha imparato a passare sotto le nostre gambe in maniera corretta possiamo aggiungere delle varianti camminata in avanti camminata indietro e laterale adesso proviamo a fare lo stesso esercizio con mila che è un cane che non lo ha mai fatto mettiamo la mano dietro attiriamo il cane davanti ma che brava oggi abbiamo visto con mila il passaggio del sotto le gambe semplice mano a mano che si allena potremo inserire poi le diverse varianti che abbiamo visto prima ci vediamo alla prossima lezione di impariamo divertendoci con sidney ciao